Fabio Moraldi, responsabile area industria di Genertel. Buonasera. Buonasera. Genertel si lancia con una nuova offerta dedicata al settore sport e salute. Da dove nasce questa scelta? Questa scelta nasce dall'accelerazione della nostra strategia digitale, presentata in ottobre al mercato, che comprendeva quattro ecosistemi di bisogno che saremmo andati a coprire nel corso dei prossimi due anni. In particolare abbiamo parlato di mobilità, di casa, di benessere, di coperture PET. Abbiamo continuato questa incoerenza con questo lancio in dicembre, il primo prodotto distribuito sul mercato in ambito mobilità con le auto e abbiamo annunciato in realtà un lancio dei prodotti casa, benessere e PET tra fine 2022 e inizio 2023. Abbiamo deciso di accelerare molto questo percorso, in particolare per il benessere, comprendendo quindi lo sci, siamo andati già in onda da una settimana con il primo prodotto non-motor della nuova compagnia digitale. Senta, e quali sono i vantaggi delle due offerte Genertel Ski? Sì, noi abbiamo lanciato un prodotto che in realtà è un'altrazione tra due prodotti differenti, Ski e Ski Plus. Entrambi i prodotti assolvono l'obbligo normativo di responsabilità civile sulla pratica dello sci e degli sport invernali. In particolare il prodotto sci, che è il prodotto di base, con un prezzo di lancio da 2,50 euro come minimo, ha quattro coperture, che sono l'RC Skiatori, quindi la copertura che assolve anche l'obbligo normativo, il prodotto assistenza, la copertura di assistenza venduta in partnership con Europa Assistance, il soccorso e gli infortuni. Invece il prodotto Ski Plus va ad aggiungere a questo prodotto base altre 5 garanzie, 2 opzionali, 2 obbligatorie e 3 opzionali. Quelle obbligatorie sono la diare da ricovero e la tutela legale, e poi ci sono altre 3 opzionali, tra cui rimborsi danni di attrezzatura, rimborsi delle lezioni perse in causa di infortuni o malattia, e possibili indennità da incidente occorso. Diciamo, questo prodotto ha la particolarità di essere un prodotto che nasce come instant, quindi fondamentalmente dal momento dell'acquisto, in 30 minuti la polizza è attiva. Tutta questa combinazione di garanzie che vi ho descritto, ha il vantaggio di essere flessibile per il cliente, quindi è un prodotto modulare, con un numero di garanzie, abbiamo detto, pari a 9, molto elevato rispetto ai prodotti disponibili sul mercato. Il cliente si trova davanti ad un'esperienza completamente digitale, quindi può scorrere il suo prodotto, personalizzarlo, configurarlo, può acquistare interamente senza parlare con un operatore, può acquistare tramite carta o paypal, e lo può fare diciamo in tutta autonomia. Basta che lo faccia 30 minuti prima di accedere a questi impianti cistici. Può assicurare fino a 10 persone, anche non parte dalla stessa famiglia, quindi può scegliere anche un gruppo di amici di acquistare una polizza fino a 10 persone, e diciamo nel caso che nessuno si augura di un sinistro, può fare anche questo, può fare questa denuncia, anche qui online, quindi accedendo al sito c'è una pagina dedicata che permette di fare denuncia rispetto all'evento che è intercorso. Quindi stiamo offrendo un prodotto che viene con la nostra strategia presentata in ottobre, è un prodotto full digital, è un prodotto istantaneo che offre tutta la personalizzazione del caso per l'assicurato. Aspetta, quindi lo ha detto adesso lei, ancora un'offerta full digital, quindi una scelta per guardare ancora di più al futuro? Assolutamente sì, mi viene da dire che ormai il futuro per noi è presente, nel senso che stiamo andando in digitale da ormai due mesi, come esperienza completamente digitale, e quindi i prossimi ecosistemi di bisogno che andremo a coprire, che sono quelli di cui ci parlavamo sopra, andranno ancora in una logica di continuità con questa esperienza completamente digital, per il cliente. Io la ringrazio. Ringrazio lei. 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 Grazie a tutti.